Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi ci occupiamo di un Dante un po' meno conosciuto e anche di un genere letterario poco studiato a scuola, ovvero il genere dell'attenzione poetica, e in particolare leggeremo l'attenzione di Dante con il suo amico Forese Donati. Bisogna sapere che, soprattutto nel Medioevo, era usanza comune fra i poeti dialogare fra di loro tramite sonetto, tramite sonetti, o tramite comunque testi poetici. Quindi poteva succedere che iniziava un poeta mettendo per iscritto alcune riflessioni su varie tematiche, l'amore, la filosofia, la politica, poi inviava questo sonetto ai suoi amici, ai suoi colleghi, ai suoi amici poeti, che a loro volta rispondevano, gli rispondevano, esponendo il proprio punto di vista, sempre tramite un altro sonetto. Quindi era una sorta di conversazione poetica su diversi argomenti, e a volte questa usanza si tramutava in una vera e propria tensione, ovvero in un duello, un duello a suon di parole. Infatti, per capire un po' il funzionamento della tensione ci può venire in aiuto il moderno freestyle. Nel freestyle due cantanti si rivolgono vicendevolmente degli insulti inversi, rappando degli insulti inversi, e comincia uno e l'altro poi deve rispondere a tono, e in genere vince chi è riuscito a comporre gli insulti più creativi e originali. Ecco, questo genere di gara, possiamo dire, di abilità compositiva è più antico di quanto si pensi. Infatti, un'altra usanza ai tempi di Dante era quella di scambiarsi dei sonetti di insulti, scambiarsi fra amici dei sonetti di insulti, insulti inversi. Cominciava un poeta e il destinatario doveva rispondere letteralmente per le rime. E questa pratica avveniva appunto fra amici, fra poeti che condividevano un sentimento di amicizia reciproco, e serviva sostanzialmente anche per farsi quattro risate. Era un modo così di cementare il legame di amicizia attraverso un insulto che in genere era bonario e scherzoso, quindi si faceva una gara di insulti, sostanzialmente, e si cercava di trovare il modo più originale e creativo possibile per sbeffeggiare il destinatario, che poi aveva la facoltà di rispondere a tono. Ecco, Dante, che con i versi, diciamo che se la cavicchiava, si cimentò anche lui in alcune di queste tensioni, e la più celebre è appunto, consiste in una serie di sonetti che lui si scambiò fra il 1293 e il 1296 con un suo amico di nome Forese Donati. La famiglia Donati è una famiglia molto importante nella vita di Dante, per vari motivi. Innanzitutto Dante sposò un appartenente alla famiglia Donati, Gemma Donati, la vera moglie di Dante, personaggio di cui in realtà si sa molto poco, storicamente, ma che è recentemente diventato protagonista di un bel romanzo di Marina Marazza, uscito l'anno scorso, mi pare, nel 2020, romanzo molto avvincente che vi invito a leggere. Possiamo pensare anche a Corso Donati, un personaggio spregiudicato, quasi demoniaco, audace, bellicoso, quasi machiavellico, uno dei capi della fazione dei Guelfi Neri di Firenze, quindi acerrimo nemico politico di Dante. Possiamo pensare anche a Piccardadonati, una giovane appartenente a questa famiglia, costretta da Corso Donati a sposarsi per motivi politici, e però così facendo venne costretta anche a mancare ai voti religiosi che aveva preso, e comunque morì poco dopo, e Dante la pone in Paradiso, nel primo cielo del Paradiso, nel terzo canto. E quindi, insomma, Dante aveva molta dimestichezza con la famiglia Donati, e c'era appunto anche questo Forese Donati. Dante e Forese si conoscevano fin dalla giovinezza, Forese era un appassionato, anche lui, di poesia, poeta lui stesso, anche se di levatura piuttosto modesta, soprattutto se paragonata a Dante, ma possiamo dire con abbastanza con una certa sicurezza che Dante e Forese fossero amici sinceri, amici di lunga data. E in realtà essere amici è una delle prerogative principali della tensione. Questi scambi di insulti, come abbiamo detto, in realtà sono bonari, sono scherzosi, non hanno il reale intento di mortificare un avversario, ma più che altro sono due amici che si insultano scherzosamente a vicenda e che però, così facendo, consolidano anche la propria amicizia. Se ci pensiamo, le uniche persone con cui noi possiamo scherzare in questo senso, a volte anche andandoci molto pesante, sono proprio i nostri amici più cari, sono gli unici che sicuramente non si offenderanno e che avranno comunque la possibilità di ribattere ai nostri scherzi. E quindi, fra il 1293 e il 96, abbiamo, c'è giunta questa tensione, si tratta quindi di uno scambio di sonetti, di insulto, sonetti comici, fra Dante e Forese Donati, la relazione fra i due tenzonanti, fra i due duellanti, è una relazione di amicizia e la tensione consiste in sei sonetti, tre di Dante e tre di Forese. Comincia Dante con il primo sonetto, Forese risponde, Dante risponde a sua volta e così via per tre volte, per tre giri, per un totale di sei sonetti. Una cosa da notare in questa tensione è che le risposte di Forese non sono cosiddette per le rime. Infatti, in alcune tensioni, colui che riceveva il primo sonetto di insulti poteva rispondere utilizzando le stesse rime che aveva utilizzato il suo avversario nel suo sonetto. Quindi un virtuosismo ulteriore che poteva essere utilizzato, ma in questa tensione in particolare Forese non risponde per le rime, utilizza delle rime tutte sue. Nel primo sonetto della tensione indirizzato a Forese, Dante scrive così Chi udisse tossir la malfatata moglie di bici vocato Forese, potrebbe dir che la forse vernata ove si fa il cristallo in quel paese. Di mezzo agosto la trovo infreddata, or sappi che der far d'ogni altro mese, e non le val perché dorma calzata, merzè del copertoglio che a cortonese. La tosse, il freddo e l'altra malavoglia non la dovien per omor cabbia vecchi, ma per difetto che la sente al nido. Piange la madre, che ha più di una doglia, dicendo lassa che per fichi secchi messa l'avrei in casa al conte Guido. Dunque, scrive Dante, chi udisse tossire la malcapitata moglie di bici soprannominato Forese, o qui si può anche invertire, di forese soprannominato Bici, potrebbe pensare che ella forse ha passato l'inverno, avvernata, in quel paese dove si fa il cristallo, in quel paese ovvero dove d'inverno c'è la neve. Quindi qualche paese del nord particolarmente freddo. Tu la trovi, questa moglie di forese, la trovi raffreddata anche di mezzo agosto, anche nel pieno di agosto, nel mese più caldo dell'anno. Quindi or pensa, or sappi, pensa tu che cosa, come si deve sentire negli altri mesi dell'anno, nei mesi meno caldi di agosto. E non le serve a niente, non le val, non le serve a niente dormire calzata, cioè dormire tutta coperta, a causa della coperta che ha cortonese. Il copertoio è la coperta, cortonese può rimandare a due significati. Il primo è originario della località di Cortona, che era famosa per i tessuti, per le coperte, ma il significato più interessante è il secondo significato. Cortonese potrebbe infatti anche voler dire corto, troppo corto. E in realtà potrebbe riferirsi, questo copertoio, allo stesso forese. Infatti è in quest'ultimo verso che sta l'insulto e anche il doppio senso, diciamo, comico e osceno. Sostanzialmente l'insulto sta qui. La moglie di forese ha freddo perché di notte il marito non è in grado di coprirla adeguatamente, quindi il marito non la soddisfa sessualmente. E dunque l'insulto sta qui. Dante insulta forese di essere impotente, di non soddisfare adeguatamente la moglie di notte, di non riscaldarla, diciamo, con il sesso, e dunque la moglie è insoddisfatta e quindi sempre raffreddata. E il senso di questo insulto diventa ancora più esplicito nelle due terzine. La tosse, il freddo e le altre malattie non sono causate dagli umori che lei avvecchi. Nella medicina medievale si pensava che la salute o la malattia del corpo dipendesse dai cosiddetti umori, ovvero da alcuni fluidi che erano all'interno del corpo umano. Quindi la moglie di forese non ha freddo, non ha la tosse perché i suoi umori sono vecchi, perché la sua salute fisica è minata, ma per il difetto che la sente al nido, cioè sente una mancanza al nido. E il nido, nel gergo dell'epoca, era un chiaro riferimento all'organo sessuale femminile. Quindi la moglie di forese sente freddo all'organo, al proprio organo sessuale femminile, perché appunto forese non la soddisfa sessualmente. E dunque la madre della moglie di forese, quindi la suocera di forese, piange e ha più di una doglia, più di un dolore, e dice, lascia, cioè povera me, che avrei potuto metterla a mia figlia, sottointeso, in casa del conte guido per fichi secchi. Cioè avrei potuto far sposare mia figlia a questo conte guido per fichi secchi, ovvero per una dote irrisoria, per due soldi, e comunque sarebbe stata meglio che darla in sposa a forese. Quindi già nel primo sonetto Dante ci va giù pesante, un insulto che a noi potrebbe anche sorprenderci, ma appunto il senso di questo sonetto è che forese è impotente, la moglie è insoddisfatta e la suocera si, insomma, rimpiange di aver fatto sposare la figlia con un tale incapace. Vediamo come risponde forese a questo primo attacco di Dante. L'altra notte mi venne una gran tosse, perché io non avea che tenere addosso, ma incontanente che fudì fui mosso per gira guadagnar ove che fosse. Udite la fortuna ove maddusse, chi credetti di trovar perle in un bosso, e bei fiorin coniati d'oro rosso, e di trovai alla ghier tra le fosse. Legato a nodo, chi non sa cio il nome, se fu di Salamon o d'altro saggio. Allor mi segnai verso Levante, e quei mi disse, per amor di Dante, sciomi, ed io non poti veder come. Tornai addietro e compiemmi viaggio. Dice forese, la scorsa notte mi è venuta una grande tosse, perché io non avevo nessun indumento da tenere addosso per coprirmi, ma appena fu giorno mi mossi fuori casa per andare in giro a guadagnare ove che fosse, quindi a cercare di guadagnarmi qualche soldo ove che fosse, dove capitasse. Ascoltate il caso dove maddusse, dove mi condusse, che io credetti di trovare delle perle in un bosso. Il bosso è un tipo di legno, che però per estensione può indicare anche una nicchia, una piccola rientranza, un luogo nascosto. Avevo creduto di trovare delle perle, oppure dei bei fiorini, il fiorino era la moneta in uso a Firenze all'epoca, dei fiorini coniati d'oro rosso, cioè appena coniati, appena usciti dalla zecca, e quindi ancora rossi, incandescenti, ancora caldi. E invece chi ho trovato? Ho trovato Alighiero, tra le fosse, legato con un nodo di cui io non so il nome. Se fu un nodo di Salomone o di qualche altro saggio. Dunque, chi ha trovato Forese, andando in giro? Chi ha trovato buttato in una fossa comune, legato come un salame? Alighiero. Alighiero non è altri che il padre di Dante. Quindi Forese risponde all'insulto che coinvolge, che aveva coinvolto sua moglie, tirando in ballo il padre di Dante. Dice, io ho trovato il tuo padre Alighiero, buttato in una fossa, legato a un nodo di cui non so il nome, forse un nodo Salomone, di Salomone. Il nodo di Salomone è un nodo di cui vi ho riportato un'immagine qui, un nodo che, per chi ha un Apple, si trova sul tasto Command. Vedete questo segno qui, è appunto un tipo di nodo che si chiama appunto nodo Salomone, conosciuto fin dall'antichità, spesso presente sugli scudi, su alcuni simboli araldici, e un nodo quindi particolare, spesso anche difficile da sciogliere. Quindi Alighiero sarebbe stato legato con dei nodi inestricabili e buttato in una fossa. E il padre di Dante sta messo così e Forese che cosa fa al verso undici? Mi segnai verso il Levante. Forese vede Alighiero in queste condizioni e si fa il segno della croce, verso Levante, perché il Levante, ovvero l'est, è il luogo, il punto cardinale che raffigura Dio, perché a Oriente sorge il sole, da Oriente viene la luce. E perché Forese, quando vede Alighiero così, si fa il segno della croce, quasi come a scongiurare qualche pericolo? Perché era cosa nota che Alighiero, il padre di Dante, di professione facesse l'usuraio, quindi prestasse soldi a usura, a interesse. E diciamo, quello dell'usura era un mestiere estremamente mal visto nella comunità medievale, se non proprio addirittura vietato, estremamente poco onorevole. Questo lo diceva anche la dottrina cristiana, i mercanti, gli usurai non sono bene accetti nel regno di Dio, come sappiamo. Infatti spesso a esercitare il mestiere di usurai erano gli ebrei, perché appunto l'usura non era considerata un'occupazione da buon cristiano. E quindi Forese sta accusando Dante di avere un padre usuraio. E quindi per questo si fa il segno della croce, come per dire io non voglio avere niente a che fare con questo tipo di personaggi. E il padre di Dante, nell'ultima terzina, dice per amor di Dante sciomi, cioè prega Forese, ti prego scioglimi da questo nodo per amore di mio figlio Dante. E qui sta il secondo dei due insulti presenti in questo sonetto. Il primo appunto è tuo padre è un usuraio. E il secondo insulto, sottinteso, sta proprio in questa preghiera ai versi 12-13. Evidentemente il padre di Dante ha finito nei guai a causa del suo lavoro. Evidentemente ha prestato denaro a usura alle persone sbagliate e ha avuto dei guai con dei suoi clienti. Questi clienti l'avrebbero oltraggiato legandolo e buttandolo in una fossa e sarebbe toccato a Dante vendicare l'offesa e liberare suo padre. Ma evidentemente Dante non si è fatto vivo e quindi Forese ha incontrato il padre così ancora in questa situazione problematica. Quindi Forese sta accusando Dante anche di non essere intervenuto per difendere l'onore del padre. E all'epoca, nel Medioevo, quando una persona veniva insultata, oltraggiata, toccava ai parenti poi vendicare l'offesa, a volte anche in modo violento. Spesso scorreva del sangue fra le famiglie per questi affronti che si trasformavano presto in delle faide familiari. Quindi invece Dante, molto vigliaccamente, diciamo, non avrebbe preso le difese del padre. E per questo Forese, al verso 13, dice io non poti veder come, cioè io il padre mi ha, tuo padre mi ha pregato di scioglierlo, ma io non sapevo come. Perché? Perché non tocca a lui liberarlo, toccherebbe a Dante. E quindi, conclude Forese, me ne tornai indietro e mi si fine alla mia passeggiata. Inizia il secondo giro di insulti e di nuovo, diciamo, la palla ce l'ha Dante, che scrive ben ti faranno il nodo salamone, bici novello, i petti delle starne, ma peggio fia la lonza del castrone, che il cuoio farà vendetta della carne, tal che starai più presso a San Simone se tu non ti procacci dell'andarne, e intendi che il fuggire il mal boccone sarebbe oramai tardi a ricomprarne. Ma ben mi è detto che tu sai un'arte che, se gli è vero, tu ti puoi rifare, perché l'è di molto gran guadagno, e fa sì a tempo che tema di carte non hai, che ti bisogni scioperare, ma ben ne colse male figli di stagno. Allora, come Forese nel suo sonetto aveva ripreso il motivo della tosse, così Dante qui riprende il motivo del nodo di Salomone, e quindi dice il nodo di Salomone te lo faranno a te, bici novello, i petti delle starne, cioè i petti delle oche, delle anatre. L'insulto qui è chiaro, Dante sta accusando Forese di eccessiva golosità, del vizio della gola, quindi dice i tuoi desideri di cibi, di cibi applicabile. E ancora peggio, farà la lonza del castrone, sono le lombate di vitello castrato, quindi un cibo di carne, quindi comunque abbastanza ricercato. E perché l'agnello ti farà ancora più male dei petti delle starne? Perché il cuoio farà vendetta della carne, perché sulla pelle di questi agnelli verrà ricavato il cuoio con cui si faranno le carte su cui si segneranno i debiti che tu contrarrai, perché Forese, per soddisfare la sua golosità, si indebita, si indebita e quindi questi debiti verranno segnati sul cuoio ricavato da quegli stessi agnelli che lui ha così ingordamente divorato. Sappiamo che la gola è un peccato capitale e Dante quindi qui cambia un po' versante e dice a Forese tu sei un goloso, un golosaccio e stai attento perché per soddisfare questo vizio ti stai indebitando. E in tal modo, al verso 5, in tal modo sei sempre più vicino a San Simone. San Simone era una zona di Firenze dove sorgeva il carcere della Burella. Quindi tu stai sempre più vicino al carcere se tu non ti procacci dell'andarne, se tu non ti ingegni per allontanartene. E però intendi che fuggire il malboccone sarebbe oramai tardi a ricomprarle. Dice ma tieni conto che ormai mi sa che è tardi per fuggire questo malboccone, questo boccone maligno, malvagio, che sembra tanto buono adesso ma che ti procurerà dei guai molto presto. Quindi le due quartine sono dedicate a mettere in ridicolo il vizio di Forese, quindi il vizio della gola. Nelle due terzine Dante aggiunge, però mi viene detto che tu conosci un'arte, conosci una tecnica che se è vera tu ti puoi salvare, ti puoi rifare, perché questa tecnica è di molto gran guadagno al verso 11, perché è un'arte che potrebbe essere molto redditizia. Ma, conclude Dante nell'ultima terzina, può far sì che tu non debba più avere tema di carte, non debba più temere le carte dei debiti di cui abbiamo parlato nelle quartine, e potresti anche scioperare, cioè potresti anche smettere di lavorare se tu eserciti quest'arte di cui evidentemente sei molto esperto. Ma, conclude il sonetto, stai attento perché anche i figli di stagno esercitarono quest'arte ma gliene colse male, ma poi per loro finì molto male. Qual è quest'arte? È l'arte del rubare, la ladroneria. Quindi tu puoi rimettere in sesto le tue finanze così costose per soddisfare il vizio della gola rubando, andando a fare il ladro. Quindi combattere un vizio con un altro, un vizio con un altro più grave. E quindi, Dante, anche qui l'insulto è duplice. Sei un goloso e sei anche un ladro. Sei un goloso, ti indebiti e sei un ladro. Però stai attento che questa strada ti porterà sempre più vicino alla prigione. Quarto sonetto, seconda risposta di Forese. Va, rivesti sangal prima che dichi parole o motti d'altrui povertate, che troppo ne è venuta gran pietate in questo verno a tutti i suoi amichi. E anco, se tu c'hai per si mendichi, perché pur mandi a noi per caritate? Dal castello altafronte, altafonte, ai tal grembiate, ch'io saccio ben che tu te ne nutrichi. Ma ben ti lecerà in lavorare, se Dio ti salvi, la Tana e il Francesco, che col belluzzo tu non ti stia in brigata. All'ospedale apinti a riparare, e già mi par vedere stare a Desco, in terzo, a Liglier con la Farsata. Dunque, Forese dice, va, questo va ha più o meno lo stesso significato del nostro va, va a quel paese. Quindi vai, vai, vai a rimborsare Sangallo, prima di dire parole o motti sulla povertà altrui. Poiché gli amichi, cioè gli amministratori di questo Sangallo, si trovano in cattive acque, si sono trovati in cattive acque, si sono trovati nei guai, in gran pietate, durante questo inverno, per colpa tua. Ovvero, Sangallo che cos'era? Sangallo era un ospedale di Firenze adibito a mensa dei poveri, al ricovero per i poveri. E quindi qui l'accusa è chiara. Forese dice, tu te la prendi, tu ti fai beffe della mia povertà quando tu sei un assiduo frequentatore delle mense dei poveri. Quindi sei più povero di me, e non solo, sei talmente, le frequenti talmente tanto queste mense, che hai ridotto sull'astrico gli amministratori delle mense stesse. Quindi, oltre a essere povero, sei anche quasi uno scroccone. E rincara la dose forese nella seconda quartina, dal verso 5, e se tu ci ritieni, ritieni me e la mia famiglia, una famiglia di mendichi, una famiglia di poveracci, perché poi però vieni a chiederci la carità. Ecco, qui questo, diciamo, è quasi uno scoop. Tu prendi in giro la nostra povertà, però poi tu ci vieni a chiedere la carità. E argomenta forese negli ultimi due versi della quartina. Tu hai tali sostanze dal castello di Altafonte che io so bene che tu trai sostentamento da questo castello. Il castello Altafonte era un altro locale, adibito a ospizio, a mensa per i poveri, e a quanto pare la famiglia Donati era una delle famiglie amministratrici di questo castello. Quindi per questo Dante manda ai Donati per caritate, perché si rifocilla a una mensa dei poveri gestita dai Donati stessi, quindi lo smacco per Dante è ancora più grande. E nelle due terzine Forese dice, ma ben ti lecerai lavorare. Questo assomiglia un pochino alla terzina, alla prima terzina del sonetto precedente di Dante. Ma ben mi è detto che tu sai un'arte, quindi sembra esserci una soluzione al problema, al vizio evidenziato nelle due quartine. Dice Forese, ma ben ti lecerai lavorare, cioè tu invece ti conviene andare a lavorare. Mentre tu mi hai detto che io posso scioperare, nel terzo sonetto, tu invece devi andare a lavorare. Se Dio ti salvi, la Tana e il Francesco. Cioè devi pregare che Dio mantenga in salute la Tana e il Francesco. La Tana e il Francesco erano i fratelli di Dante. Tana, diminutivo di Gaetana, era la sorella maggiore di Dante e Francesco era il fratellastro, il figlio della seconda moglie del padre di Dante. E evidentemente l'accusa è qui che Dante è un mantenuto, si fa mantenere dai fratelli, quindi deve pregare che Dio glieli conservi in salute questi fratelli, ovviamente. E stai attento a non stare in brigata, non andare in gruppo col Belluzzo. Il Belluzzo era invece uno zio di Dante, che evidentemente frequentava cattive compagnie, era un personaggio poco affidabile e quindi Forese dice è meglio che te ne stai con i tuoi fratelli che ti mantengono piuttosto che andare in brigata con tuo zio Belluzzo. E nell'ultima terzina si dice all'ospedale a Pinti hai riparare, è meglio che ti vai a riparare, che ti vai a ricoverare all'ospedale dei Pinti, che è un altro luogo di carità di Firenze. E mi pare già di vedere stare a desco, cioè stare al tavolo della mensa dei poveri, a Lighiero con la farzata. Di nuovo si tira in ballo il padre di Dante. Dice Forese, a me già mi sembra, è meglio che tu vai alla mensa dei poveri dell'ospedale dei Pinti, perché già mi pare di vedere lì tuo padre. Già tuo padre lo frequenta con la farzata. La farzata è un indumento molto leggero e quasi una sorta di maglietta della salute, quindi il fatto che a Lighiero sia con la sola farzata ci fa capire che il suo abbigliamento è povero, quasi da mendicante. Quindi Dante vattene a mendicare all'ospedale dei Pinti, tanto lì c'è già tuo padre. Quindi in questo sonetto intanto Forese menziona questi tre luoghi, l'ospedale di San Gallo, il castello Altafonte e l'ospedale dei Pinti, che sono dei luoghi molto concreti di Firenze e tutti e tre dei ricoveri per poveri, e in più tira in ballo praticamente tutta la famiglia di Dante. La sorella, il fratello, lo zio e in ultimo questo disgraziato padre a Lighiero. La risposta di Dante non si fa attendere ed è un concentrato di aggressività maligna e sarcastica. Bici novelle, figlio di non so cui, si non ne domandassi a monna tessa, giù per la gola tanta roba hai messa che a forza ti conviene torre l'altrui. E già la gente si guarda da lui, chi ha la borsa al lato, là dove s'appressa, dicendo questi che ha la faccia fessa è più vicoladrone gli atti sui. E tal giace per lui nel letto tristo, per tema non sia preso allo imbolare, che gli appartiene quanto Giuseppe a Cristo. Di Bici e dei fratelli posso contare che, per lo sangue loro, del malacquisto sanno a loro donne buon cognati stare. Allora, nella prima quartina Dante dice Bici novello, Forese, figlio di non so chi, se io non lo chiedessi direttamente a tua madre, monna tessa. Quindi già una prima accusa pesante. Forese è un bastardo, è un figlio illegittimo, figlio di chissà chi, bisogna chiederlo direttamente a sua madre. Hai messo giù per la gola tanta roba che adesso ti è necessario rubare con la forza quell'altrui. Quindi in questa quartina Dante riassume le due accuse già emerse nel sonetto precedente, la gola e l'attitudine a rubare, e ci aggiunge anche dei natali poco chiari, dei natali illegittimi, e nella seconda quartina passa a descriverlo usando la terza persona. Vedete il lui al verso cinque. Quando Forese gira per strada, la gente si guarda da lui, lo schiva, lo schifa, si tiene alla larga da lui, soprattutto chi ha a lato il borsello, soprattutto chi ha il portafogli, diciamo, perché ha paura che Forese glielo possa rubare. Là dove Forese si appressa, là dove Forese si avvicina. E la gente dice, costui che ha la faccia fessa, fessa significa sfregiata, e quindi costui che ha la faccia sfregiata è un pubblico ladrone nei suoi comportamenti. Infatti i ladri spesso avevano la faccia piena di tagli, di cicatrici, segno di risse o di lotte avvenute per strada, di accoltellamenti, di ferite, di arma da taglio, perché venivano spesso coinvolti in delle risse, quindi insomma erano personaggi poco raccomandabili. E quindi qui Forese è paragonato a un avanzo di galera, per così dire, un ladruncolo, un delinquente comune che quando passa per strada la gente si discosta e controlla di avere ancora il portafogli. E nelle due terzine il tono di sicuro non si impera, perché dice Dante, il padre giace, il padre di Forese giace tristo nel letto a causa sua. Il padre di Forese sta tutto agitato nel letto la notte per paura che il figlio sia catturato, sia preso, allo imbolare, cioè mentre imbola, ovvero mentre ruba. E questo padre tra l'altro gli appartiene quanto Giuseppe a Cristo, cioè fra Forese e suo padre c'è lo stesso rapporto di parentela che c'è fra Giuseppe e Cristo. E è chiaro che Giuseppe non è il vero padre di Cristo, quindi qui si prende in prestito un'immagine biblica e la si ribalta in senso comico, cioè tu sei figlio di tuo padre quanto Cristo era davvero figlio di Giuseppe. Quindi per riprendere il tema dei primi due versi del sonetto, figlio di non so cui. E infine Dante dice, io di Bicci, di Forese e dei suoi fratelli posso raccontare che proprio per il loro sangue, proprio per la loro disposizione al malacquisto, cioè alle azioni illecite, sanno a loro donne buon cognati stare. Questo verso ha diverse interpretazioni, in particolare Contini, Gianfranco Contini ne ha proposte due. La prima significa che i fratelli di Forese si rapportano alle donne, alle proprie mogli, come se fossero cognati e non come se fossero mariti. Quindi esattamente come Forese nel primo sonetto, anche i suoi fratelli non adempiono ai loro doveri di mariti, quindi non soddisfano sessualmente le loro donne. La seconda interpretazione vede quei cognati, al verso 14, intesi come generalmente parenti. Quindi il verso si carica di un certo sarcasmo. I fratelli di Forese sono proprio dei bravi parenti nei confronti delle proprie donne, e qui si potrebbe fare riferimento al fatto che i uomini della famiglia Donati trattano male le proprie donne, e ci può essere un rimando appunto a, per esempio, Piccarda Donati, costretta da Corso Donati a sposarsi e a trasgredire i suoi voti. Con il sesto sonetto Forese conclude la tensione. Ben so che fosti figliuol dall'ighieri, e accorgomene pur alla vendetta che facesti di lui si bella e netta della guglin che decambiò l'altriieri. Se tagliato ne avessi uno a quartieri, di pace non dove avert al fretta, ma tu hai poi si piena la bonetta che non la porterebber due somieri. Buon uso c'hai recato, ben ti l'dico, che qual ti carca ben di bastone, colui hai per fratello e per amico. Il nome ti direi delle persone che vanno posto su, ma del panico mi reca, che io voglio metter la ragione. Allora, dice Forese nelle due quartine, io so bene che tu fosti figlio di Alighiero, e me ne accorgo dalla vendetta così chiara e decisa che hai fatto su di lui a causa di un aquilino che lui ha cambiato l'altro ieri. L'aquilino è una moneta, un'altra moneta, in uso soprattutto a Pisa, nell'epoca. E se tu avessi squartato qualcuno, se l'avessi tagliato a quartieri, fatto a brandelli, non avresti avuto così tanta fretta di andare a fare pace. Ma tu hai la borsa, il borsello così pieno, la bonetta sì piena, che non la porterebbero due somieri, che non basterebbero due somari a portarla. Allora, a cosa si riferisce qui Forese? Il tono è del tutto ironico. Forese riprende l'accusa che l'amico gli ha fatto nel quinto sonetto. Non si sa chi è tuo padre, sei un figlio illegittimo. E Forese risponde, io invece capisco bene che tu sei figlio di Alighiero, cioè si vede invece che tu sei figlio di Alighiero, perché quando lui è finito nei guai per aver cambiato questo aquilino, tu non l'hai vendicato. Questa vendetta si bella e netta è ironico, in realtà Dante non ha mosso un dito per vendicare il padre. Cosa aveva combinato il padre? Non è chiaro, ma forse aveva frodato, insomma, aveva truffato alcuni suoi clienti, cambiando questo aquilino con un cambio svantaggioso. Vantaggioso per lui, ma non per i suoi clienti. E quindi questi clienti si sarebbero vendicati, non si sa in che modo, ma ci viene in aiuto il secondo sonetto, quando abbiamo visto Alighiero buttato e legato in una fossa. E tra l'altro l'aquilino, a quanto ne sappiamo, era una moneta di scarso valore, quindi il padre di Dante avrebbe cercato di fare una truffa per veramente quattro spiccioli e poi avrebbe subito la vendetta di le ritorsioni dei suoi clienti e Dante non ha appunto mosso un dito per vendicarlo. E Forese rincara la dose. Tu, se avessi squartato qualcuno, non avresti avuto tanta fretta di andare a fare la pace con lui. Evidentemente Dante si è affrettato ad andare a fare la pace con gli aguzzini del padre. Neanche avesse commesso chissà quale delitto, neanche se avesse ucciso qualcuno si sarebbe affrettato a fare la pace con i suoi offensori. E evidentemente Dante però non l'ha fatto gratis, sentendo Forese, perché dice tu però ti sei riempito la bonetta con questa pace, ti sei riempito le tasche, così tanto che non basterebbero due somari a portarla, quindi sostanzialmente ci hai guadagnato sulle sciagure patite dal tuo povero padre, che comunque già di per sé non è uno stinco di santo, perché è un usuraio. E continua Forese, ci hai recato un buon uso, te lo dico chiaramente, c'è belle usanze, belle cose sei abituato a fare, che chi ti, al verso 10, chi ti carica col bastone, cioè chi ti prende a bastonate, sembra che tu ce l'hai per fratello e per amico, cioè è come dire, più qualcuno ti bullizza, diciamo, più qualcuno ti dà le bastonate e più tu cerchi di tenertelo buono, cerchi di avercelo amico. Quindi Dante è un vigliacco sostanzialmente, è privo di attributi, più lo offendono e più lui porge la guancia ai suoi offensori. E, conclude Forese, io ti direi anche il nome delle persone che vanno posto su. Posto su significa letteralmente che ti sono salite sopra, quindi che si sono approfittate di te, io ti farei anche i nomi. Ma, dice, recami, dammi del panico, il panico è un tipo di cereale, un tipo di frumento, che io voglio metterla ragione, che era un modo di dire per dire io voglio mettere la parola fine. Il panico, questo frumento, serve perché veniva, i semini del panico venivano utilizzati come, un po' come le palline dell'abbaco per fare i conti, quindi Forese dice io potrei anche andare avanti, potrei anche infierire, ma dammi un po' di panico che così facciamo i conti e mettiamo fine a questa tensione. Finisce qui la tensione, ma non la storia dell'amicizia fra questi due personaggi. Nel 1296, infatti, Forese muore e Dante lo pone in purgatorio. Quindi, innanzitutto, lo pone fra i salvi, pone un suo amico fra gli spiriti che stanno sì scontando ancora dei peccati, ma che presto si guadagneranno il paradiso. E lo pone, per la precisione, nella penultima cornice del monte, dove si sconta, indovinate un po', il peccato della gola. E nel ventitresimo canto del purgatorio, Dante, Virgilio e Stazio stanno attraversando proprio questa cornice, e gli spiriti che scontano il peccato della gola sono costretti a una sorta di supplizio di tantalo, cioè devono passare continuamente accanto a un albero pieno di frutti, accanto a un ruscello su cui scorre dell'acqua fresca e limpida, ma non possono mai attingere né ai frutti dell'albero né all'acqua del ruscello. E questi spiriti sono praticamente degli scheletri ambulanti, sono magrissimi, e proprio perché, come contrappasso, perché come in vita ascoltarono troppo il vizio della gola, qui sono costretti a patire la fame, quindi sono estremamente magri, scheletrici. E fra questi spiriti Dante riconosce proprio Forese. Non gli è facile riconoscerlo, perché appunto Forese è estremamente dimagrito, però comunque sia Dante riesce a individuarlo, Forese riconosce Dante, quindi i due si, potremmo dire, si rincontrano. Non dimentichiamo che la commedia è ambientata nell'anno 1300, quindi Forese è già morto da quattro anni, e i due amici si rincontrano qui, si rincontrano in un regno ultraterreno. E Dante lo descrive così, il viso di Forese, ai versi 31-33, in maniera molto realistica, perché dice Dice, gli occhi, le orbite di Forese sembravano anelli senza gemme, per dire che erano talmente scavate e talmente pronunciate che sembravano dei buchi neri, come degli anelli senza la gemma all'interno, quindi degli occhi infossati, scavati, e chi nel viso degli uomini legge la parola uomo avrebbe nel viso di Forese riconosciuta la lettera M, che significa che le arcate sopraccigliari di Forese e gli zigoni di Forese sono estremamente pronunciati, perché il viso è magrissimo, quindi sono estremamente scarni e spigolosi, e quindi formano una specie di M, formano come la lettera M, e le due O invece sono gli occhi, che stanno in mezzo, e quindi si può leggere la parola uomo nel viso di Forese. E Dante ha subito una domanda per Forese, gli dice, ma tu sei morto solo da quattro anni, quindi relativamente da pochissimo tempo, come mai sei già così in alto nel purgatorio, come mai hai già superato già tutte le altre cornici e sei ormai nella penultima, quindi sei molto vicino al paradiso terrestre e poi quindi al paradiso, alla beatitudine eterna. E sentiamo come risponde Forese a questo interrogativo. Ondelli a me, si tosto, ma condotto a berlo dolce assenzio di martiri, l'anella mia, col suo pianger di rotto. Con suoi preghi devoti e con sospiri, tratto ma della costa ove s'aspetta, e liberato ma degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta, la vedovella mia che tanto ha mai. Intanto sentite il tono, il tono ovviamente non è più quello aggressivo, beffardo e comico della tensione. Qui siamo in purgatorio, siamo vicinissimi al paradiso, quindi i due amici intanto sono entrambi sinceramente commossi di rivedersi, ma comunque l'ambientazione richiede un altro tipo di registro. E Forese dice, io sono già a questo livello del purgatorio grazie a Nella. Nella, mia moglie, mia moglie Nella, la vedovella mia che tanto ha mai e che tanto mi ha amato, mi ha aiutato con le sue preghiere a salire più velocemente il monte del purgatorio. Sappiamo che le preghiere dei vivi sulla terra possono aiutare i morti a salire più velocemente appunto le cornici del purgatorio. E quindi Forese dice, mi hanno condotto già così in alto i pianti, quindi i pianti luttuosi di Nella, della mia Nella, che con le sue preghiere devote mi ha tratto su, letteralmente, mi ha tirato su dalla costa dove si aspetta, che è la zona dell'antipurgatorio, quindi la spiaggia del purgatorio dove si può aspettare anche tantissimi anni, e mi ha già liberato degli altri giri, cioè delle altre cornici. E negli ultimi versi Forese chiama molto dolcemente sua moglie, la vedovella mia che tanto ha mai. Quindi vedete come il tono è completamente cambiato. La moglie di Forese, che era stata protagonista del primo sonetto, la moglie insoddisfatta, la moglie non soddisfatta sessualmente trascurata dal marito impotente, e qui invece nel purgatorio diventa una moglie amorevole e affettuosa, e lo stesso Forese è grato a sua moglie perché gli ha accelerato la salita nel purgatorio. Quindi, insomma, questa tensione è una parte importante, secondo me, della vita e della vicenda personale e poetica di Dante. È una preziosa testimonianza di una stagione di vita e di poesia che è precedente al fatidico viaggio della Divina Commedia. La tensione si svolge, diciamo, nell'ultimo decennio del 1200, quindi quando c'è un Dante ancora tutto terreno, ancora, diciamo, ben al di qua del mezzo del cammin della sua vita, che deve ancora compiere il suo viaggio per eccellenza e che è ancora, diciamo, radicalmente aggrappato alle questioni terrene e che si cimenta con un suo caro amico in una gara di abilità poetica per insultarsi buonariamente a vicenda e che quindi, insomma, è una testimonianza molto importante, oltre che molto originale, di quel controfilone comico, grottesco, giocoso, che in tutte le stagioni della letteratura italiana si accompagna a un filone più serio, che è quello che poi si studia generalmente a scuola. Quindi spero che leggere questi sonetti vi abbia aiutato anche ad apprezzare e a conoscere un lato un po' meno conosciuto, un lato più inedito della vicenda di Dante, e io con questo vi ringrazio e ci vediamo alla prossima video-lezione.